Coppa dei campionati, Scudetto e Coppa Italia. Abbiamo pure la ragione, e dopo abbiamo la Roma in Coppa Italia. E dopo vengono le coppie più grosse ancora. Noi siamo la squadra più forte del mondo. Noi l'abbiamo dimostrato con l'Ucente e l'abbiamo dimostrato con il Barcellò. Perché siamo una squadra troppo forte. Se ne vedevi? Io. All'allenatore. Benidz. Se arrivi Benidz, sareste pure Wille ancora. Vengono ancora in dei gatti. Oh, 4.000 persone all'aeroporto. A lui ha basato. E perché mi sentite per la squadra? Amoregno.